Si sono allenati per mesi non correndo lungo una pista di atletica o macinando vasche in piscina, ma studiando ore sui libri di grammatica per tentare di salire sul podio di una competizione unica nel suo genere. Si tratta delle Olimpiadi della lingua italiana, organizzate per il sesto anno consecutivo dall'Istituto Superiore Dovidio di Larino e dall'Università del Molise, obiettivo rilanciare in maniera anche ludica l'importanza della riflessione sulla lingua in tutti gli ordini della scuola, rilevanza della conoscenza della grammatica per l'uso corretto e il potenziamento di tutte le competenze numerosi di atleti speciali arrivati da tutta l'Italia. Soprattutto analisi della proposizione, analisi logica e anche della morfologia, l'uso del che, delle congiunzioni, delle preposizioni, poi soprattutto la professoressa insisteva sui predicativi del soggetto e dell'oggetto. È stato su vari quesiti che abbiamo risolto, che non erano poi tanto difficili. Sono stati abbastanza facili. Parliamo una lingua bellissima che deve essere valorizzata ogni giorno. È stata una fortuna, siamo pieni di ragazzi molto talentuosi e ci siamo divertiti molto. Per la scuola primaria ha vinto l'Istituto Comprensivo di Taviano in provincia di Lecce. Gli alunni di Tressino, Vicenza, sono saliti sul podio della secondaria di primo grado e gli studenti del liceo Rinaldini di Ancona sono stati più bravi tra le superiori. È una buona pratica scolastica perché l'allenamento non è altro che pratica didattica, cercare nuove strategie, nuove metodologie didattiche per far sì che l'insegnamento della lingua italiana possa diventare non un ostacolo ma un percorso piacevole. Significativo il ruolo dell'Università del Molise. Estrapolare dalle prove e da questo lavoro anche con gli insegnanti che accompagnano le squadre un ragionamento su quale può essere un curriculum di didattica della grammatica nei vari livelli della scuola in un momento, in un'epoca in cui questo tipo di competenze e di conoscenze molto tecniche spesso non sono quelle in cui gli studenti amano più cimentarsi. Grazie. 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 Grazie.